Cibus 2018 ci troviamo allo stand di La Donatella e siamo in compagnia di Enrico Il direttore commerciale Italia di Forno d'Asolo e La Donatella Buongiorno Enrico, bentornato sugli schermi di OreccaTV.it Buongiorno a tutti e benvenuti a Cibus Grazie, qui c'è tanta roba da mangiare ma noi dobbiamo essere rigorosamente a digiuno Non approfittiamo nemmeno dei buonissimi dolci che tu prima hai tentato di offrirci Ti ringraziamo al frattempo e spieghiamo loro che cos'è La Donatella La Donatella è un marchio di proprietà del Forno d'Asolo SPA E' specializzato sulle torte, quindi torte farcite o torte da forno E quest'anno ci troviamo a Cibus con uno stand dedicato Soprattutto al nuovo concept di torte Quello che abbiamo in testa per la ristorazione Che abbiamo in mente per la ristorazione di alta qualità L'alta ristorazione ma anche per la ristorazione normale Ed è la Donatella Premium Parliamo di Donatella Premium Abbiamo visto, sono alle nostre spalle, tantissimi dolci Che sono certamente buonissimi Se ne sente un gran bell'odore ma sono anche bellissimi da vedere Allora è un gran bel profumo E dopo aver fatto colazione con i nostri cornetti Forno d'Asolo Poi per la parte di lancio o di dinner E la parte di ristorazione Puoi prendere le nostre monoporzioni E quindi la Donatella Premium Delle monoporzioni che sono artigianali Veramente artigianali quindi di alto livello Sia l'equalitativo di ingredienti ma anche di aspetto, di visibilità Poi lo vedrete anche nel corso E soddisfare le tue necessità di dolcezza con le nostre monoporzioni Il vostro target qual è? Il nostro target è un target ristorazione soprattutto Quindi stiamo parlando di ristorazione non solamente di alta gamma Ma una certa tipologia di ristorazione E soddisfiamo tutta la parte catering e ristorazione Quindi anche coloro che magari non sono forniti di pasticceria interna O il cuoco è troppo impegnato a cucinare gli antipasti I primi, i secondi, i contorni Che se desidera non dedicarsi ai dolci Può comprare la vostra tipologia di prodotto Assolutamente sì E non solamente per i ristoranti Ma anche per le pasticcerie che vogliono arricchire il loro lavoro quotidiano Come possono entrare in contatto con voi? Allora possono collegarsi al sito www.ladonatella.com Oppure info-fornodasolo.it Ci sono grosse quantità da andare a acquistare per diventare vostri clienti? No assolutamente Ci sono grosse quantità da assaporare più che da acquistare Bene, grazie Enrico, sei stato cortesissimo Saluta a tutti loro Grazie, arrivederci E ci vediamo prossimamente anche dopo il Cibus Noi nel frattempo continuiamo attraverso i corridoi di Cibus 2018 Per documentarvi altre novità presentate in questa manifestazione a Parma Non andate via Noi nel frattempo continuiamo attraverso i corretti